Una proposta di legge che oggi è diventata legge grazie al contributo di tutti i consiglieri regionali, una legge che è stata votata quindi all'unanimità e che istituisce questo itinerario ebraico-marchigiano che vuol mettere insieme in rete tutti i luoghi di interesse storico-architettonico dove vi è stata la presenza delle comunità ebraiche nelle Marche. Quindi un itinerario che valorizza e promuove questi luoghi, 25 comuni dislocati in tutte le Marche, una proposta quindi volta alla promozione e al turismo ma anche alla memoria delle comunità ebraiche che nella storia appunto sono stati presenti in questi 25 comuni. In prima commissione abbiamo condiviso questa proposta anche perché riteniamo che su questi temi non ci possiamo dividere, sono tematiche che devono, come dire, hanno coinvolto l'intero consiglio regionale. Io mi auguro che questa possa essere una legge soprattutto rivolta alle scuole perché noi riteniamo che la memoria di quello che è stata la cultura ebraica nel territorio marchigiano vada in qualche modo portata avanti e vada continuamente, come dire, alimentata. La legge poi individua tutta una serie di valorizzazioni dal punto di vista storico-culturale di quelli che sono i beni presenti a livello regionale, mi riferisco ad esempio alle sinagoge, ai cimiteri ebraici, quelle che sono le abitazioni che hanno delle caratteristiche anche architettoniche tipiche appunto della cultura ebraica e soprattutto anche tutta una serie di iniziative appunto nate che dovranno contribuire a promuovere la cultura ebraica a livello regionale. Grazie.